Noi siamo distributori di un software americano, di una piattaforma software americana che tra i vari usi ha anche la possibilità di aiutare i processi della mobilità poiché è una piattaforma geospaziale, quindi in pratica gestisce tutte le informazioni relative alle strade e ai flussi che insistono sulle strade. Dunque la nostra piattaforma attraverso il collegamento con dei partner che producono dati in tempo reale permette di fare analisi geografiche a partire da dati che possono venire ai nostri cellulari, dai navigatori delle auto, da dispositivi IoT che sono disposti sulle strade e l'analisi geografica ci permette di estrarre informazioni, estrarre il significato poi delle informazioni che andiamo a gestire e quindi dare poi la possibilità a chi deve decidere di decidere. Ovviamente si rivolge alle società di trasporto, per esempio il gruppo Ferrovie che utilizzano la nostra piattaforma proprio per gestire tutta l'infrastruttura ferroviaria e allo stesso tempo gestire i dati che appunto insistono su questa infrastruttura ferroviaria ma anche le società di trasporto pubblico, le società di car sharing eccetera.